Anche se dalle ultime bizze del tempo e guardando la colonnina del termometro non sembrerebbe, ma l'estate si avvicina, perlomeno l'apertura ufficiale degli stabilimenti balneari. Anche se nei ponti di aprile qualcuno era già presente ad accogliere clienti e fare i lavori classici della riapertura, gli ombrelloni non sono ancora stati piazzati e posizionati dai bagnini, ma i titolari delle concessioni non sono i soli che si sono messi in moto. Anche il comune, nei tempi previsti, dopo aver ottenuto dalla Regione Marche le tempestive autorizzazioni, è sul pezzo e nei paraggi dell'anfiteatro Rastat, da lunedì, le ruspe sono in azione. Anche se dobbiamo ancora parlare di Sabbionia più che di Sassonia, per il momento questa ridistribuzione del materiale per ripianare lo scalone fatto dalle mareggiate, ha fatto sicuramente piacere agli storici bagnini che da anni lottano contro l'erosione e che nel tempo hanno dovuto ridimensionare di parecchio i loro spazi. Abbiamo iniziato un'altra odissea purtroppo, perché si aspettava la scogliera, ma non è stata fatta. Riuscirete quest'anno a mettere giù tutte le file? Ancora non lo sapete. Questa è una bella domanda, non lo so, perché finché non è finito questo lavoro non sono in grado di dare un numero preciso. Devo vedere con determinati lavori quello che si riesce ad ottenere, che profondità ci rimane e da lì distribuire gli ombrelloni. Sicuramente non penso ci saranno differenze nel senso di avere più spiagge rispetto all'anno scorso. Speriamo che sia rimasta così, se no che sia diminuita, mi auguro di no. Per la ghiaia sono previsti per il momento, come è predisposto dalla regione, 3500 metri cubi di materiale proveniente dal fiume e dalle cave che saranno riversati sull'arenile assieme ai quantitativi salvati dai marosi e accatastati a ridosso dei capanni dagli stessi bagnini per dare alla Sassonia il giusto look per chiamarsi tale, anche se per la Sassonia di un decennio fa è ancora presto a parlarne. In un modo o in un altro comunque bisogna iniziare la stagione, questo senz'altro, ovviamente appunto aspettiamo che finisca il comune, che faccia un buon e bel lavoro e poi insomma facciamo la stagione sperando che poi a fine stagione, come hanno detto, questa scogliera venga partorita. Sul fronte dei costi nessuna variazione di tariffa è prevista, pertanto l'ombrellone in prima fila con due lettini avrà il costo di 650 euro, mentre per il giornaliero l'ombrellone è rimasto a 6 euro e il lettino a 7 euro al giorno. Non ci sono aumenti, quindi tranquillizziamo tutti perché ogni tanto leggo qualche cosa di strano, però no, le tariffe andiamo avanti con il tariffario del 2017-2018, per cui sia lo stagionale che il periodico spenderà quello che spendeva già nel 2017 e nel 2018.